A Cireale sarà prorogata di un altro mese la gestione della Senesi intanto ci si sta organizzando per l'avvio dei nuovi servizi della Tecra. Da ieri e per un mese ad A Cireale attivo uno sportello per tutti gli universitari dell'Interland curato da azioni universitarie Catania, numerosi servizi garantiti. Calcio ancora galvanizzato dalla vittoria di domenica a A Cireale sogna una grande stagione aspettando l'inizio del campionato, vogliamo vincerle tutte, sono alla carica d'agosta. Bentrovati dalla redazione di Reporter, questi gli argomenti principali di giornata, tra gli altri, parleremo ancora di A Cireale, rifacimento della pavimentazione stradale e sistemazione del marciapiede di Corso Italia. Presto le somme in bilancio. Parleremo anche della cerimonia solenne di questa mattina nei locali dell'Istituto Casa Mia per ricordare la figura di Santa Jeanne Hugan, fondatrice delle piccole sorelle dei poveri. E poi spazio a Mister Aci e Miss Galatea, consegnate infatti sabato le ambite fasce del concorso di bellezza, giunto quest'anno alla seconda edizione. Ma come sentito dai titoli partiamo sì da Cireale, ma per parlare dei servizi di igiene ambientale, prorogate infatti di un altro mese la gestione della Senesi in comune intanto ci si organizza per l'imminente gestione della nuova ditta giudicataria del servizio, la Tecra. Sentiamo. Conferenza stampa da Cireale questa mattina nel Palazzo del Turismo con argomento l'igiene ambientale nel territorio in questa fase di transizione. L'assessore comunale servizi ambientali Francesco Fighiera ha suddiviso l'incontro in tre parti, cioè l'attuale fase che vede la città non certamente pulita come dovrebbe essere e in dal senso sono state contestate alla Senesi una serie di inadempienze, poi le modalità della fase di transizione e infine come ci si intende muovere con la nuova ditta Tecra. Passiamo quindi alla situazione attuale. La prima questione è relativa al fatto che in questi mesi non abbiamo avuto un buon servizio in città, soprattutto sui servizi di spazzamento. Questo è dovuto a tante ragioni che non competono all'amministrazione ma competono all'organizzazione aziendale dell'attuale gestore e noi siamo vincolati a un appalto che va rispettato in tutti i suoi aspetti, a prescindere dal fatto che il personale possa essere presente o non presente in cantiere. Registriamo ovviamente assenze che superano la normale media e quindi è evidente che questi servizi tutti non possono essere stati garantiti. Detto questo la Tecra ha già avviato gli adempimenti previsti. La nuova ditta ha già richiesto l'elenco del personale, ha convocato le sigle sindacali per domani, intende ovviamente svolgere tutte le visite preassuntive con il personale, le 118 unità che dovevano transitare. Espletate le visite preassuntive ovviamente all'esito dell'idoneità o inidoneità del personale, il nuovo servizio potrà essere avviato. Questo ci costringerà in questo periodo transitorio di dover fare una mini proroga all'attuale gestore per garantire la continuità ovviamente dei servizi. Ultimo punto quindi ecco il piano comunale concertato con la Tecra per il cambio di rotta che naturalmente sarà graduale. Come funzionerà dopo ed è importante che i cittadini lo sappiano. La città sarà ovviamente divisa in zone, la città e le sue frazioni in zone dove progressivamente si passerà dalla raccolta stradale ai cassonetti al porta a porta. Sarà ovviamente prima effettuata la campagna informativa su ogni mezzo e direttamente porta a porta con la consegna delle brochure informative. Saranno consegnati a ogni singola famiglia, a ogni singolo utente i contenitori per la raccolta differenziata e i sacchetti. Dopodiché sarà avviato il nuovo servizio. Prevediamo che nel momento in cui consegneremo i servizi al nuovo giudicatario alla Tecra nel giro di quattro mesi possa essere compiuto tutta l'attività di consegna e informazione in tutta la città del nuovo servizio di raccolta differenziata. Torna a riunirsi questa sera da Cireale il Consiglio Comunale dopo le due sedute consecutive della scorsa settimana andate deserte. Non è stato raggiunto infatti il numero legale. Il civico consesso ci riprova stasera ma all'ordine del giorno non vi sono questioni di rilevante importanza o scadenze amministrative da onorare. La seduta infatti proporrà una fase di interrogazioni, interpellanze e emozioni da parte dei consiglieri con risposta immediata da parte dei rappresentanti dell'amministrazione comunale. La prima chiamata è prevista alle 19.30 ma come spesso accade se ne riparlerà un'ora dopo per dare avvio ai lavori. Non passerà dal Consiglio Comunale il documento invece elaborato da Cireale dalla Giunta Barbagallo riguardante l'utilizzo di mutui residui per il rifacimento dei marciapiedi di Corso Italia. Sentiamo. Si ritorna a parlare da Cireale della devoluzione dei mutui residui da impiegare per il recupero funzionale dei marciapiedi del Corso Italia. L'argomento a seguito dell'atto deliberativo attuato nel marzo scorso dalla Giunta era stato inserito anche all'ordine del giorno dei lavori consigliari, un passaggio però non necessario anche perché il tutto inserito e già approvato nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune. Il documento ora perciò sarà rimodulato nella sua forma così da dare a questo punto il via libera per l'intervento in questione. Residui di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti riguardano in tal modo 18.270 euro per lavori eseguiti nel cimitero, 22.152 euro per il liceo classico Gulle Pennisi, 22.969 euro per opere in edifici scolastici vari e infine 326.300 euro per gli impianti sportivi. Al fine perciò di poter sfruttare tali somme, la Giunta ha pensato bene nel rispetto delle normative e degli accordi con la Cassa Depositi e Prestiti di sfruttare il denaro ancora disponibile per il ripristino funzionale dei marciapiedi danneggiati nel Corso Italia dalla tromba d'aria del novembre 2014, investendo così la somma di 63.000 euro, ma guardando pure le esigenze della rete viaria della città e delle frazioni che in più punti meriterebbe di essere rifatta. Ecco allora che ad essa sarà destinata la somma di 326.000 euro, così da dare corso di esecuzione alla pavimentazione di alcune vie. Proposito di giunta, domani ad Acicatena ha previsto un avvicendamento nella giunta Maesano alle 11.45, infatti nella stanza del sindaco si terrà il giuramento dell'assessore che prenderà il posto del dimissionario Pippo Grasso. Parliamo di cronaca adesso, non avrebbe accettato la fine della storia con la sua compagna e dietro pagamento di qualche centinaio di euro, avrebbe fatto incendiare le auto della donna da un disoccupato di Pedara di 31 anni. Tutto questo è accaduto a tre castagni, tre le auto incendiate fino all'ultima di questa notte. In quest'ultimo caso però le videocamere installate hanno permesso di identificare il piromane bloccato poco dopo dai carabinieri. L'uomo ha confessato e posto in stato di fermo, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza con l'accusa di incendio doloso in concorso. Denuncia in stato di libertà invece per l'ex convivente, un uomo di 29 anni, ritenuto responsabile oltre che di incendio doloso in concorso anche del reato di atti persecutori. Adesso ci fermiamo in linea alla pubblicità, tra poco per la seconda parte di Reporter. Quando scegli un paio di occhiali non ti accontentare, cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Aci Reale, nuovo ampio concept store, in corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Che mi ti ci serve? Un'auto usata? Che cosa mi vuoi? Un'auto seminuova o un'auto nuova? Convenienza e garanzia. Unicar! Oh, ecco qua una famigliola. Le signore ha scelto il posto giusto per cambiare sulla macchina. Questo glielo dico io, l'iterio. Me lo dici a me che io sono il proprietario? Ah, perché lei è signor Carcione? Signor Carcione, sono sì. E che è? Tu scuddavo? Me, perdone... Unicar! Il piacere di guidare! Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. Vai dove ti porta il cuore, scegli dove fare un break. Al mare, in collina, in montagna o in città, Blue Bar c'è. Granite, gelati tutti i gusti, dolci buonissimi, tavola calda, ricchi aperitivi e tanto altro da gustare in ogni momento della giornata. Blue Bar, vai dove ti porta il cuore. A Stazzo, a Fleri, a Zafferana, o se ti fermi in città, Blue Bar Daci. Nuova apertura, via Ingegnere Antonino Scalia. Piscine Castiglione. Scegliete come volete la vostra piscina, noi ve la realizziamo. Con Piscine Castiglione il vostro progetto diventa realtà. Grazie all'esperienza, alla creatività e alle nostre tecnologie, potrete sbizzarrirvi e richiederla come la sognate. Vi consiglieremo per renderla funzionale anche scenograficamente. Chiedete un progetto e un preventivo al concessionario di zona. Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 44 41. Piscine Castiglione. Tal 1961, la storia delle piscine. Rientriamo in studio per la seconda parte di Reporter. Di sbrigo, pratiche universitarie, immatricolazioni, iscrizioni. Sono tra i servizi che da ieri offre ad Aceriale uno sportello universitario curato da Azione Universitaria Catania. Sentiamo. Sbrigare pratiche universitarie, immatricolazioni, orientamento, iscrizioni ed ancora informazioni relativi ai servizi dell'Ersu, anticipo crediti, corsi singoli e lavoro part-time. Sono solo alcuni dei servizi che il nuovo sportello universitario accese garantisce a tutti gli studenti del comprensorio. Un supporto concreto, una comodità che da ieri e fino al 30 settembre prossimo sarà fruibile da tutti grazie all'impegno di Azione Universitaria Catania e dei suoi componenti accesi che hanno deciso di mettersi a disposizione degli studenti, della loro comunità e non solo. L'accordo infatti è frutto di un'intesa tra l'Associazione e Giacomo Antronaco, responsabile della sede dei Modavi di Via Galatea 147. I ragazzi che saranno a disposizione tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 sono Marco Piro, iscritto al secondo anno e consigliere al corso di laurea in Economia Aziendale e Antonio Ricciardi, anch'egli iscritto presso il Dipartimento di Economia e Impresa. Iniziativa importante, come l'ha definita lo stesso Piro, necessaria per costruire un punto di riferimento e supporto radicato sul territorio. Stiamo costruendo una catena importante di servizi, commenta invece il Presidente di Azione Universitaria, Francesco Ferlito, che abbraccia tutta l'area metropolitana catanese e i centri di altre province, in cui ogni anno sono presenti nuovi iscritti presso il nostro Ateneo. A partire dal primo ottobre prossimo saranno attivi ad Aciriale due autovelox per il controllo a distanza della velocità dei veicoli su Viale Cristoforo Colombo. I due sistemi di rilevamento dell'eccesso di velocità, omologati e completi di tutti gli accessori, sono inseriti nel sistema per il monitoraggio e controllo della mobilità e dell'inquinamento da traffico veicolare del comune di Aciriale, denominato ACI Vivibile. Gli autovelox sono posizionati su entrambi i sensi di marcia del Viale Cristoforo Colombo e precisamente quello in corsia direzione Caselli Autostradali a circa 150 metri dopo l'intersezione con via Medigo Vespucci, quello invece in corsia direzione SS114 a circa 250 metri dopo l'intersezione con via Degli Angeli. Su entrambe le corsie il limite di velocità trattandosi di strada extraurbana secondaria e di 90 km orari. La velocità rilevata, ai sensi dell'articolo 345 del regolamento di esecuzione al codice della strada, è sempre ridotta del 5% e comunque del minimo di 5 km orari. Gli autovelox saranno in funzione per tutte le 24 ore, sia di giorno che di notte. Un avviso adesso per tutti i cacciatori che in questi giorni stanno provvedendo al ritiro dei previsti tesserini per la stagione venatoria 2016-2017. La regione infatti ha indicato erroneamente l'anno 2015-2016, per cui l'Arcicaccia invita coloro che avessero già ritirato il tesserino di effettuare la dovuta correzione nelle sedi opportune al momento della riconsegna. Segnalazioni giungono in redazione, un telespettatore ci segnala le condizioni di pericolo presenti in via dell'agrumicoltura da Cireale. Si tratta dell'arteria di collegamento tra la vecchia e la nuova stazione ferroviaria. Siamo nella parte sud della città, dove, come si evince dalle immagini, al centro della carreggiata è presente una grossa buca che rappresenta un serio pericolo, soprattutto per i mezzi a due ruote. Da qui la segnalazione, il sollecito indirizzato ai responsabili dei lavori pubblici, settore strade, per un rapido e deciso intervento onde evitare possibili incidenti, soprattutto, come detto, per i centauri che si ritrovano a percorrere il tratto di strada in questione. Restiamo da Cireale, ma cambiamo decisamente argomento. Cerimonia solenne questa mattina nei locali dell'Istituto Casa Mia per ricordare la figura di Santa Jeanne Hougan, fondatrice delle piccole sorelle dei poveri. Vediamo com'è andata. È stata celebrata stamattina nei locali di Casa Mia, la casa di riposo per anziani in via dell'Oionio ad Acireale, la messa per la ricorrenza di Santa Jeanne Hougan, fondatrice delle piccole sorelle dei poveri. Jeanne, di origine bretone, nasce nel 1792 a Cancal, in Francia. Alla sua morte avvenuta nel 1879, la sua congregazione conta 2400 piccole sorelle e 177 case in 10 paesi di Europa, Africa e America. Le piccole sorelle dei poveri giunsero nella città di Acireale il 22 aprile 1881. La piccola comunità, formata da 5 piccole sorelle, cominciò la prima fondazione in via Carpinati. Jeanne Hougan è la fondatrice delle piccole sorelle dei poveri, che sono nei 5 continenti, nei 32 paesi di questi 5 continenti. Noi ci dedichiamo agli anziani poveri, che non hanno nessuna risorsa, che è una pensione minima, perché noi viviamo della carità della gente. Due suore, ogni giorno, vanno in questo, a chiedere l'elemosina, diciamo, per curare bene gli anziani, per mantenere quella dignità che ogni anziano ha, che è ricevuto di Dio. Diciamo, questa è nostra opera. Pensiamo, forse la gente pensa che noi siamo ricchi perché vediamo una casa così grande, però è tutto frutto delle donazioni dei particolari. Non siamo convenzionati con nessun ente, né comune, né regione, né chiesa. Viviamo della carità della gente proprio. Così a Cireale, in particolar modo Casa Mia, assieme a Monsignor Guglielmo Giombanco, Vicario Generale della Diocesi, l'hanno ricordata con una messa. Gianni Hugan è stata dichiarata beata il 3 ottobre del 1982 da Giovanni Paolo II e nel 2009, Santo Padre Benedetto XVI la iscrive all'Albo dei Santi. Ora, dal 2011, che è stata canonizzata, si è fatto più solenne, perché già c'è la messa propria con le sue letture, approvata da Roma, però prima se celebrava sempre, perché più modesta, nel senso che non aveva letture proprie, l'ecoristia era un pochino più, però sempre si ricorda la nostra madre, perché è lei che ci ha portato a termine questo carisma. La comunità parrocchiale accese Santa Maria degli Angeli informa che giovedì 8 settembre si terrà la tradizionale festa della Natività di Maria. In preparazione della festa vi sarà la novena, che inizia oggi e fino a mercoledì 7. Il programma novenario prevede una santa messa tutti i giorni alle 8, poi alle 19 la recita del Santo Rosario e alle 19.30 la Santa Messa con Omelia. Domenica prossima, invece, 4 settembre, prevista la celebrazione per le mamme in attesa. Alle 19 la recita del Santo Rosario e Santa Messa con Omelia. Al termine della preghiera, al termine poi la preghiera delle mamme e speciale benedizione. Adesso ci fermiamo ancora una volta, lo sport e non solo, nella terza e ultima parte di Reporter. Il Centro Analisi Saem del Dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di Via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale, vicino la Biblioteca Zelantea. Centro Analisi Saem del Dottor Antonino Di Carlo. Apertura Laboratorio Prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro Analisi Saem, Via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale, per info 095 604883. Tomarchio Ottica, occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto, da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio Oxo, 100% ottici optometristi. Richiedi la Oxo Family Card di Tomarchio, avrai grandi vantaggi. Tomarchio Ottica e fotografia, Corso Italia 18A, ACI Reale, professionalità a servizi assistenza personalizzati. Profili, ha cambiato il che, ora è nel nuovo showroom, sempre in corso Savoia, ma al numero 157. Con più spazi e una luminosissima esposizione di oggetti prestigiosi e di classe. Servizi di piatti, bicchieri, posate, anche per il quotidiano. Profili, oggettistica, oltre a un grandissimo assortimento di raffinatissime bomboniere, per ogni circostanza, da impreziosire. Profili, da 30 anni, con i nostri oggetti, abbiamo arredato le case di tante famiglie. Profili, nuovo showroom, in corso Savoia 157. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per lingua glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera accese, centinaia di prodotti buoni, da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera, alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli perfumatori. Se passate per lingua glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Parliamo di Mr. Aci e Miss Galatea, in apertura di terza parte di Reporter, perché sabato sono state consegnate ad Acireale le ambite fasce del concorso di bellezza, giunto alla seconda edizione. Sentiamo. Tappa finale lo scorso sabato in piazza Duomo ad Acireale per il concorso di bellezza Mr. Aci e Miss Galatea, giunto alla seconda edizione, promosso da Eva Futura Casting. Il concorso ha visto la partecipazione di 25 tra bambini e ragazzi, di età compresa dai 2 ai 12 anni. Un vero successo per la presentatrice e organizzatrice dell'evento, che si dimostra ampiamente soddisfatta. Sono soddisfatta di questa manifestazione, questa è stata la seconda edizione, i vincitori sono stati Sofia Presti e Damiano Manca. Sono soddisfatta soprattutto per il fatto che prima di cominciare abbiamo dedicato quei minuti di silenzio, quei minuti di preghiera per tutti quei poveretti che hanno perso la vita con il catastrofico evento del terremoto. E poi tengo anche a fare i ringraziamenti di Mauro Gaetano e sono felicissima perché ho avuto tutti i bambini bellissimi nel mio concorso. Felicita e soddisfazione per i piccoli vincitori delle varie fasce, ben 17, aggiudicate durante le varie tappe, ma che sono state consegnate poi nel corso della finalissima. Tra queste nove sono le fasce per le ACI, due le fasce per Miss ACI e Mr. Galatea, due per Miss e Mr. Basilicò, una per il premio Moda Trend Magia, una per il premio Top One e due per Mr. e Miss Fashion. Il palco in Piazza Duomo ha visto il susseguirsi non solo di sfilate ma anche di tanto altro. Sono state infatti numerose le coreografie e i balletti eseguiti da Dance Sport Sicily e dall'Accademia dei Baile Querga Flamenca. Ballerini e ballerine hanno alietato gli spettatori scandendo le varie uscite dei partecipanti. E dopo il successo discosso si pensa già al futuro. Noi ci rivedremo sempre con le prime selezioni che cominceranno tra gennaio e febbraio e come al solito sempre con la divisa ufficiale di questa manifestazione. Ci trovate sulla pagina di Eva Futura Casting, su Facebook e niente. Sono felicissima, vi ripeto, di questa conclusione. Siamo al calcio, vogliamo vincerle tutte. Suona la carica l'attaccante della Cireale Fabio D'Agosta, uno dei due match winner della vittoria di domenica scorsa al Tuparello contro il Giarre. Sentiamo. Un palermitano, un vittoriese e un accese non è il prologo di una barzelletta. In realtà i tre sono i protagonisti della prima domenica calcistica della nuova stagione della Cireale. Il palermitano è Vincenzo Manfrè, attaccante di 24 anni che domenica al Tuparello contro il Giarre nell'andata del primo turno di Coppa Italia ha sbloccato Annata e Mecci dei Granata. Il vittoriese invece è Fabio D'Agosta, anche lui attaccante ma 31enne, che sempre domenica e sempre al Tuparello ha chiuso partita e chissà forse pure qualificazione. La Cese infine è il beneficiario dei gol dei primi due, colui che sempre domenica ha riempito il Tuparello, seguendo con passione e entusiasmo le sorti di una Cireale che quest'anno promette scintille. La squadra è super, l'ambiente è pure e basta davvero poco per accenderlo. D'altronde, ieri su Radio Etne Espresso, durante il programma che va in onda tutti i lunedì, dalle 14 alle 16, Bar dello Sport, lunedì Granata, lo stesso direttore generale Simona Marletta, ospite insieme a Capitano Ciccio Millesi, lo ha ribadito. Sono qui per costruire un progetto pluriennale e vincente. L'eccellenza è insomma punto di inizio da abbandonare al più presto, migrando verso campionati superiori. Intanto però, prima di pensare al futuro, c'è da scrivere il presente e questo riporta a loro, al Palermitano Manfredo e al vittoriese d'Agosta. Innanzitutto mi ero fermato perché mi sembrava a me fuori gioco, poi ho visto che dietro non c'era nessuno, l'arbitro non ha fischiato niente, perché mi dovevo fermare. Se l'arbitro non ha fischiato, a me sembra fuori gioco, ho fatto gol. Poi se non la mettevo dentro, avevo tutti i tifosi addosso e poi dicevano Manfredo perché non ha fatto gol e perché si è fermato. Invece ho fatto gol e penso che ho fatto la cosa giusta. Siamo partiti in ritardo, però abbiamo una buona squadra e ancora c'è da lavorare, dobbiamo ingranare un po' la marcia, diciamo. Cosa ti senti di poter promettere ai tifosi? Prometto il massimo impegno, questo qua è l'unica cosa che non mancherà mai. Poi i gol, se vengono, meglio ancora. Il massimo, almeno per me, che sono nuovo, volevo far bene, quindi non c'è di meglio che segnare un gol per il bene della squadra, anche perché abbiamo raddoppiato, quindi diciamo che ho un punteggio migliore fino a quando eravamo 1-0 per il ritorno. La squadra già è forte, poi ovviamente chi è venuto e chi arriverà serve qua per dare una mano perché la cosa più importante, non so se lo scorso anno, ma quest'anno veramente io conosco molti ragazzi in squadra, è un grande gruppo, un gruppo veramente fatto di bravi ragazzi e questo è molto importante per una squadra. Poi, ripeto, chi arriverà o chi è arrivato sa che qua è il benvenuto e chi ci deve dare una mano sia nel gruppo che durante la partita per regalare ovviamente ai tifosi massime soddisfazioni. Premesse positive, insomma, i presupposti per vincere e subito ci sono tutti. A Giarra, invece, nel nuovo corso del presidente giocatore Giulio Nivelli, pensa per il momento alla salvezza, primo vero obiettivo della stagione. Onestamente sono molto amareggiato per come abbiamo preso questo gol, mi aspettavo una reazione sportiva, ma il calcio fa parte pure di questi episodi e va bene così. Chiaramente in dieci poi non siamo riusciti a sfruttare alcune occasioni che abbiamo avuto e poi abbiamo preso il gollo sul calcio di ricordo. Niente, cosa devo dire? C'è la partita di ritorno e cercheremo di rifarci al ritorno. Obiettivi del Giarra quest'anno? Sicuramente prima possibile la salvezza, poi vedremo. La Ciliale, intanto, in attesa di conoscere il calendario del campionato che dovrebbe uscire a giorni, è subito tornato al lavoro per preparare il ritorno contro i rivali gerresi che probabilmente sarà sabato pomeriggio anziché domenica. La campagna abbonamenti prosegue spedita e ogni vittoria non fa che rafforzarla. D'altronde, vincere aiuta a vincere che sia campionato o coppa, poco importa. Avete anche visto le immagini della scorsa settimana relativa alla presentazione ufficiale della Ciliale Calcio. A proposito di presentazioni, domani sera invece ad ACI Catena è prevista la presentazione dell'ACI Catena 1973 nell'anfiteatro comunale al fianco del Palazzo di Città in Via Vittorio Emanuele. C'è infatti una serata, il Maradona Day, dedicata a delle proiezioni sul mito di Diego Armando Maradona. Alla serata parteciperà come ospite d'onore il famoso ex allenatore di Catania, Genoa e Lecce, tra le altre Gianni Di Marzio. E nel corso della serata appunto prevista la presentazione ufficiale della Cicatena Calcio 1973 ai nastri di partenza nel campionato di prima categoria. Domenica prossima invece, 4 settembre, la società del presidente Ponticello sta organizzando un quadrangolare alla Nino Bottino a partire dalle 16 insieme ad ACI San Filippo, Atletico, ACI San Filippo e Scordia. Per l'occasione verrà chiesto un contributo per l'ingresso allo stadio che verrà devoluto a tutte le famiglie disagiate e colpite dal terremoto nel centro Italia. Noi adesso continuiamo a parlare di sport, ma puntiamo i riflettori sul volley, sia maschile che femminile, perché liberamente a Cicatena e a Quile a Cireale preparano la nuova stagione tra mercato e obiettivi. Sentiamo. Viaggia verso la nuova stagione la liberamente a Cicatena di volley femminile. Le ragazze di Giovanni Cardillo prenderanno parte al prossimo campionato di Serie C e, vista la robusta campagna di rafforzamento, sembrano puntare dritti ad un salto di categoria. Il tecnico, infatti, potrà contare su Ilenia Musumeci, centrale classe 84 che l'anno scorso ha già contribuito alla promozione in B2 dell'Olimpia Siracusa. Sempre in ottica mercato, il club catenoto ha incassato anche il sì di Nina Gioia, libero che nella passata stagione militava nella gupe volle etneo e che da quest'anno si aggregherà alle bianco-azzure di coach Cardillo. Confermata, infine, Roberta Chiesa nel ruolo di opposto, mentre la società sarebbe in trattativa con la schiacciatrice Domenica Il Grande e la regista Gabriella Ferlito. Prende vita, dunque, la nuova stagione della liberamente a Cicatena, l'obiettivo quello di essere tra le protagoniste del nuovo anno pallavolistico. E si prepara la nuova stagione anche in casa dell'Aquilia Cireale. I ragazzi, allenati da Dario Musmar e Nico Zappalà, dopo la vittoria dei play-off promozione della passata stagione, prenderanno parte al prossimo campionato di Serie D, con inizio previsto per metà novembre. La società ha deciso di confermare la squadra che è riuscita ad ottenere la promozione con l'arrivo dei fratelli Coco lo scorso anno al Via Grande e starebbe poi trattando con il palleggiatore a Cesera Pisarda e si punta anche all'acquisto di un centrale. I ragazzi dell'Aquilia Cireale si ritroveranno il 12 settembre per l'inizio della preparazione agli ordini di coach Musmar e coach Zappalà, con l'obiettivo di valorizzare la squadra in un campionato senza rischi, visto che, dopo la riforma, non sono previste retrocessioni, mentre la promozione spetta solo alla prima classificata. Siamo in chiusura, come di consueto andiamo a scoprire le previsioni meteo per domani. Ceno nuvoloso ma senza possibilità di precipitazioni, venti deboli, temperature stazionarie comprese tra 26 e 33 gradi, mare calmo. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo che è possibile farlo anche alla nostra pagina Facebook ufficiale etnespressochannel-tgreporter per raccogliere tutte le vostre segnalazioni ma anche per darvi la possibilità di rivedere in qualsiasi momento tutte le edizioni in archivio del nostro OTG che torna domani con una nuova edizione, sempre alle 13.40. Arrivederci.